Avviso importante ragazzi, il 7 giugno alle ore 19 siete invitati in live sul mio canale per festeggiare il Summer Days Party Nella nuova mappa ufficiale di McDonald's su Roblox Faremo una live con tantissimi youtuber Roby, Jenny, Xiao, TheMark e Buddy La mappa uscirà il 5 giugno e si chiama McDonald's Adventure Island Ed è stata creata in occasione dell'inizio delle offerte dei Summer Days nell'app ufficiale di McDonald's Dove ogni giorno ci sarà un'offerta diversa e davvero speciale Quindi vi aspetto 7 giugno in live ore 19 Siccome sono diventato un fanatico di gabinetti Oggi ho deciso di creare il gabinetto più potente di sempre Ovvero lo schemi di gabbi Hanno creato un gioco dove noi abbiamo degli schemi di toilet Li uniamo tra di loro e creiamo lo schemi di toilet più potente di sempre Insomma, quello che te la fa fare veramente sotto Per tirare lo sciacquone e sconfiggere gli schemi di toilet E lasciate un like Ora iscrivetevi al canale E attivate la campanellina Andiamo a sturare qualche gabinetto Così già subito di sana pianta hanno messo la mia canzone preferita del 2023 Ok Lo scopo appunto è quello di tipo unire questi gabinetti Posso unire i gabinetti alle telecamere? Cioè no Allora non credo E poi attaccare Inizia la lotta Guardate una lotta tra tazze Quale tazza vincerà? La mia ovviamente No Non vince la mia E fa me Ok ho vinto io Per fortuna Per fortuna Ed è solo l'inizio Perché questi gabinetti si possono fondere Possono fare la fusione di un coppio Ce ne rendete conto? Ora posso comprare anche un altro gabinetto Ed eccola qua Fusion Japone Vai Che schifo La cosa bella è che io posso unire anche gli stereo fra di loro E posso creare il mega stereo su un round Oh yeah Adesso si che si ragiona Ok andiamo a vedere quale possiamo sbloccare Ci sono i guerrieri Lo scrivo di toaletta Una testa A tre teste Lo scrivo di toaletta Ragno Ma qual è? Quello più potente di tutti Ovviamente I gambi schibi di toilet Quello è il più potente Quello è la divinità Ma ovviamente ci sono anche altri schibi di toilet Puoi arrivare a sbloccare quello Perciò Iniziamo Aspetta Posso sbloccare pure gli altri Ah si Anche le telecamere Allora posso intanto prendere un altro di questi Ovviamente lo faccio Prendo due casse E uniamo due casse Vediamo che succede Perché da una cassa mi sono finito Ho sbloccato un nuovo gabinetto C'è con l'uomo gabinetto Io sono inarrestabile Allora ho sbloccato un nuovo gabinetto Però io voglio fare un'altra fusione Metto questo qua Unisco uno schibi di toaletta Al secondo schibi di toaletta E sblocco A tre teste A tre teste di cavolo A tre teste E poi Iniziamo la lotta No povero Povero solo Un uomo Un uomo gabinetto Solo con una testa Io ne ho tre Quindi posso dare tre testate Ammazza ragazzi Troppo violenza Attenzione Attenzione Qua c'è scritto che posso fare una cosa Posso evocare Ricordiamoci ragazzi Come si evoca uno schibi di toaletta Schibi di toaletta Schibi di toaletta Schibi di toaletta Salmon Wow Posso evocare lo schibi di toaletta Ragno Che faccio Lo faccio No Tendiamocelo per dopo Intanto qua la situazione si sta facendo più seria Perciò io voglio evolvere l'uomo telecamera Mettiamo Due stereo Ed è sul toilet man Diventa Il camera Che bestia 46 di vita Io sarebbe dire 46 telecamere Ragazzi vi presento Un nuovo Iphone 21 Mi ha 50 di fotocamere Ma se li mettiamo insieme Una accanto all'altro Ecco Vaila con la lotta Allora vediamo con questi Fin dove riesco ad arrivare Vabbè ma sono tutto forti Cioè Questo è il vincere facile Guardate siamo a livello 4 Secondo me a livello 10 ci sarà il boss dei boss Cerchiamo di arrivare circa Oltre il livello 10 Intanto evoco un altro schibi di toilet Ma dopo lo schibi di toilet a te teste Cosa c'è? Vediamo se ho abbastanza monete da farlo Ok Evociamo Posso sbloccare il gabinetto al peperoncino Così è sicuro che mi viene la terrea Colpa di mia mamma Io ho detto di non mettere tutte quelle spezie Quindi facciamolo Oltre Ho forse evocato troppi schibi di toilet Ma qua io posso fare una fusione incredibile Però voglio farvi una domanda Perché a me interessa molto di voi Quando siete sulla vostra tazza Che fate? State al telefono Queste sono domande importanti Quindi rispondete sotto nei commenti Intanto facciamo la fusione Vediamo cosa riesco a uscire fuori Ok Mamma mia ma questi danno testate Attenzione Io ho evocato un altro Questo lo mettiamo qua E questo lo mettiamo qua Che dite? Li uniamo? Io direi di fare questa lotta E poi uniamo le tre teste Diventano sei Forza Copisci Puglia a destra Puglia a sinistra Vi giuro mai aver pensato nella vita Di far lottare dei gabinetti tra di loro Ma noi siamo qui per una ragione Per sbloccare lo schemi di gabbi Sarà reale o è solo una leggenda? Io lo voglio scoprire Quindi Vai inizia la lotta E poi facciamo evolvere Questi schemi di toilet Ragazzi guardate Quello là sta lanciando la cacca No che schifo Che schifo Ma che cosa vado a pensare pure io Giustamente tra una lotta tra gabinetti Che cosa si devono lanciare? Le pietre? Non credo È il momento Allora uniamo questi due schemi di toilet E vediamo Che cosa sblocco Lo schemi di Ragno Che cos'è? Questo coso Che c'è davanti No 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 Lo voglio facer No 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 Ti bevo Ti bevo No 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 Però ragazzi Ha 528 Un attacco E a me serve l'attacco Ma adesso ho sbloccato pure l'uomo telecamera Quindi evochiamolo Ma enorme Cioè enorme l'uomo telecamera Ok vediamo quello che succede E vediamo che attacco fa Mettiamo tutti dietro Perché voglio vedere che attacco fa Lo schemi di toilet Ragno Vai attacca No ma se lo stanno mangiando vivo Povero se lo stanno mangiando vivo Però lui ha arrugito del leone Non ci ho capito niente Vabbè Ma vediamo dove siamo arrivati Con i nostri gabinetti Ok abbiamo sbloccato questo Non capisco perché non me l'ha sbloccato Perciò Cioè ci manca veramente poco E ce la possiamo fare Ma ancora dobbiamo fondere Le telecamere E vedere se riesciamo a sbloccare le radio Quindi Vabbè evochiamo qualche telecamera Forza Un ragno Un altro ragno Cassa Cassa Schemi di toilet Ragazzi non so quanti ne ho Però credo che Con 45.000 con lette Ce la posso fare Fusione Vai Oh Nuovo Webcam E sto diventando sempre più ricco Con questo Cioè I soldi che scendono 73.000 Cavolo Ma mi posso comprare la Lamborghini Che succede? Venom A parte Venom Perciò adesso ho pure due nuove telecamere Allora questa funzione la facciamo dopo Perché la squadra per stare sta diventando ancora sempre Fortissima Quindi vai con la battaglia Forza Guardate che gli lanciano Cos'è gli lanciano? Dei sguardi Dei sguardi accattivanti Così E hanno vinto Beh Belle battaglie Bellissime Cioè guardate Guardate quanti sono È un esercizio di gaminecchi E io ne ho 4 o 4 Va bene Mi sa che è il momento di iniziare a fare le fusioni più brutte No no poverino Povero Gianfranco Gianfranco scusami se ti ho preso così Adesso ti Fondo con l'altro Fuzione Ha E abbiamo sbloccato Gianfranco la cinepresa Che ovviamente lo mettiamo qua Perché deve registrare tutto Bro mi raccomando Non smettere di reccare Che dobbiamo diventare virali su TikTok Vediamo se riesco a fare ancora più fusioni Ok Fusione così Fusione così Voglio fondere il ragno Però per fondere il ragno Ne abbiamo bisogno di altri due Vediamo Ok Adesso possiamo fonderli insieme Pronti Viva Oh Ah Beh Almeno sto diventando ancora più ricco E mi mancano 3 livelli Per sbloccare Quello più raro Che tra poco Cioè mi manca Non so quanto mi manca Per sbloccare lo scrivi di Gabi Però voglio sbloccarlo Soprattutto se c'è Quindi iniziamo la lotta Vienete qua Con l'unico di Gabinetti Che misturo i lavandini Oh tu la smetti di tirare pezzi di Eh Cioè Scusami No è morto Gianfranchio No God Please no 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 Cavolo La squadra si sta facendo veramente più forte Quell'avversaria Devo iniziare ad essere serio Settecento 85 mila Monete Ormai la ricchezza Admaranzesca Si fa sentire Perciò mi devo creare un esercito più forte Voi che dite A voi che se mi devo creare un esercito più forte Fondiamo le docine prese insieme Vediamo che cosa ce ne esce fuori Vai No vabbè No vabbè C'è mai Dai Lottiamo Creiamo un piccolo esercito di Gabi qua dietro E andate Vediamo cosa succede Cavolo C'è questo qua dietro Che continua a lanciare robe Purtroppo siamo in pochi Sta diventando sempre più difficile Però il mio esercito ce la fa Stiamo per arrivare A livello 10 Ma secondo voi Qual è il mostro più forte Tra i schievi di toilet Le telecasse E le telecamere Mi raccomando Ditemi la vostra Scrivetelo sotto nei commenti Ma Ma posso fonderli? Allora se fondo questo a questo Creo questo Eeeh No ragazzi Forse non ho abbastanza per fondere Cavolo Pensavo di avere abbastanza E invece si E invece si Vai Helicopter Ho sbloccato lo schievi di copter Troppo bello Mento della verità Della battaglia Quasi finale Perché stiamo per arrivare Guardate come salgono i soldi Oh mamma mia Vai schiaffeggiateli Ok E abbiamo vinto Sblocchiamo Quanti Va bene Ma adesso ci sarà L'ultimo livello Due Milioni Di Dollari E con questo posso dire Addio Addio Mamma mia C'è un esercito qua che mi aspetta Ultima fusione Let's go Un Eeeh Un coso E con questo coso Facciamo vedere a tutti di che pasta siamo fatti Forse distruggeteli Vai così Ragazzi sono troppo forti Però Noi siamo ancora più forti Vai Distruggerete le camere Un colpo solo Ragazzi Un colpo solo Pazienza Non scrivi di Gabby Rimarrà solo Un nostro sogno Per dire che questo video Lo posso anche terminare qua Spero tantissimo Che vi sia piaciuto E nulla Iscrivetevi al canale Se non l'avete ancora avuto Lascia un sacco di pollicioni in su Qua la vostra Lorenzist Scriviti in toilette È tutto E noi ci vediamo Nel prossimo video Eeeh Ciao